Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, martedì 13 giugno. Giornali che sono letteralmente monopolizzati dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, politico, uomo di spettacolo, di sport e che ha cambiato letteralmente il paese negli ultimi 40 anni. A lui sono dedicate praticamente tutte le prime pagine di tutti i giornali, sia nazionali che locali, ma anche molte pagine interne. E allora cominciamo con il Corriere della Sera che titola L'Italia senza Berlusconi, 1936-2023, la scomparsa del leader. Si è spento alla San Raffaele il dolore dei familiari, domani lutto nazionale e funerali in Duomo, a Milano naturalmente. Le reazioni in tutto il mondo, il capo dello Stato Mattarella ha assegnato la storia della Repubblica. Il primo editoriale è quello di Antonio Polito che scrive un lungo viaggio. L'agonia finale, questi tre giorni in cui un po' alla volta è svanita la speranza di chi gli voleva bene che potesse riprendersi anche stavolta, sconfiggere la leucemia come era stato capace in passato per superare un tumore, un intervento al cuore, una polmonite bilaterale da Covid, ha esposto davanti agli occhi del paese la fragilità umana estenuata dal male che si nascondeva dietro la scorza di un combattente. E poi ci sono tutti i commenti dalla politica, l'inventore del bipolarismo, scrive Francesco Verderami. Ancora Aldo Cazzullo, avevo 24 anni, con lui fu magia, il ricordo di Cairo. E poi Mario Gerevini che scrive l'eredità, la società, i figli, l'impero che resta. E ancora da mani pulite a rubi, i processi. Sono un po' gli argomenti che troviamo su tutte le prime pagine. Anche Repubblica, nonostante sia stato il giornale che più lo ha avversato nel corso di questi 40 anni, 30 di politica, il primo populista, scrive, Silvio Berlusconi, quattro volte premier, si è spento ieri mattina al San Raffaele, a 86 anni. Era malato da tempo di leucemia cronica. Domani fu renarli di Stato al Duomo di Milano, il capo dello Stato Mattarella, ha segnato la storia della nostra Repubblica. Putin, perdo un vero amico. Forza Italia scricchiola. Mediaset verso la vendita, a rischio l'eredità del Cavaliere. E poi l'editoriale affidato a Maurizio Molinari, il laboratorio della sfida alle istituzioni, il commento di Ezio Mauro, Legolatra, pioniere dell'antipolitica. E poi ci sono le interviste. Renzi, non sono io il Royal Baby, occhio a Meloni. Occhetto, ex leader dei DS, rifiutai un patto segreto sulle televisioni. E poi Pascale, con lui, oggi muore la mia vecchia vita. E ancora La Stampa, il quotidiano di Torino che scrive, ciao Cavaliere Berlusconi, morto a 86 anni domani, funerale a Milano, polemica sul lutto nazionale. L'autobiografia di una nazione, scrive Massimo Giannini. Alla fine il destino ha bussato anche alla sua porta, non a Villa San Martino, che per quasi 30 anni è stata la quinta, sontuosa, dove lui stesso aveva trasferito e trasformato, per sempre, l'esegrato teatrino della politica. Ma al San Raffaele, luogo di una sofferenza fisica, che ha negato e fuggito sempre, in una esistenza epica, durata 86 anni, che non contemplava la vulnerabilità e la fallibilità degli uomini. Alla fine Berlusconi è morto lì, lontano dai suoi cani e dai suoi quadri, in quella lussosa dependanza ospedaliera che ha colpiosamente finanziato e che l'ha curato e accudito ogni volta, per la tendinite o l'uveite, per il cancro o il covid. E poi ci sono tutti i commenti, concita De Gregorio, quell'arci italiano che plasmò l'Italia, il racconto di una vita fuori dal comune. Così finisce la Seconda Repubblica, scrive Marcello Sorgi. Le condanne e la sfida alle toghe rosse, Paolo Colonnello. Andrea Malaguti invece intervista Cacciari, errore attaccarlo ai processi. E ancora Bill Emmott, il padrino di Trump Onfit al governo. E poi il mangiafuoco nel paese dei balocchi di Maurizio Mangiani. Ghisleri, Veronica il colpo più duro, racconta Annalisa Cuzzocrea. Le mogli, le olgettine e il leader playboy, scrive Flavia Perina. I satirici e i vignentisti rimasero orfani, racconta Luca Bottura. E poi Lucia Annunziata che scrive portò noi tutti nel mondo nuovo. E ancora la comunicazione, l'uomo dal sorriso in tasca, trasmesso a reti unificate, scrive Gabriele Romagnoli. E poi la parabola dell'ateo devoto che credeva solo nel suo io. E ancora passiamo all'avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, che scrive Addio Berlusconi, leader che ha innovato e diviso. L'impegno per il paese e la libertà, ma anche per se stesso, ha segnato un'era tra svolte e cadute. È morto a 86 anni al San Raffaele di Milano, domani, funerali in Duomo e lutto nazionale, le condoglianza di Papa e conferenza episcopale italiana. L'editoriale è affidato a Marco Girardo, che scrive L'eredità impossibile, l'Italia prima e dopo Berlusconi. Sarà come sempre la storia giudicare il leader, a suo pesare l'eredità di un grande imprenditore diventato premier con la poderosa spinta del suo impero mediatico, ma soprattutto grazie alla straordinaria capacità di intercettare, prima degli altri, prima di tanti, il senso comune e i cambiamenti in atto nel paese. Già da tempo era percepibile come vi fosse un prima e un dopo Silvio Berlusconi per la politica italiana, per l'immaginario collettivo e il discorso pubblico. Oggi l'addio a un protagonista assoluto, il più noto e controverso della scena italiana negli ultimi trent'anni, ci rende forse consapevoli in fondo ci sia un prima e un dopo Silvio Berlusconi per tutti. Il Cavaliere voleva cambiare l'Italia e per questo si è sintonizzato pienamente con gli italiani, dibattendosi fra pulsioni innovative e natura conservatrice. Era pronto a scuotere il paese dal torpore con una rivoluzione liberale che tuttavia ai suoi stessi occhi non ha prodotto i frutti sperati. Dopo la carica iniziale la spinta si è presto esaurita e nonostante l'opportunità di realizzarla per ben quattro volte da Presidente del Consiglio, la rivoluzione alla fine non c'è stata. Nelle vestite al Premier ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Berlusconi è invece affrontato da leader eventi di portata globale, dalla lotta al terrorismo internazionale alla crisi finanziaria globale scoppiata negli Stati Uniti con la bolla dei mutui subprime. Silvio Berlusconi ha dunque segnato la storia della Repubblica e sicuramente rivoluzionato la politica ridisegnandone i confini nazionali e contribuendo a ridefinire quelli europei. Ma sul giornale dei Vescovi italiani c'è spazio anche per altre storie, quella di Cata che non si trova persa nell'ex hotel della disporazione, la bambina scomparsa a Firenze. La mamma della piccola di origine peruviana che è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito Candengina è convinta che qualcuno abbia preso la figlia, aperta un'inchiesta per sequestro di persona. E poi c'è il rapporto Unicef, lo scandalo del lavoro minorile, anche mortale, anche in Italia. 74 vittime in 5 anni, Mattarella, a questi ragazzi è stato negato il futuro. Vito Salinaro scrive, giovani, giovanissimi, qualche volta poco più che bambini, in 74 nel nostro paese hanno perso la vita nel quinquennio 2017-2021 a causa di incidenti sul lavoro. In 67 casi questi episodi hanno riguardato ragazzi tra i 15 e i 19 anni, gli altri 7 sono addirittura under 14, ma c'è un altro dato che emerge dal primo rapporto statistico sul lavoro minorile redatto da Unicef Italia in occasione della giornata contro lo sfruttamento. Negli stessi anni le denunce di infortunio di minorenni presentate all'Inail a livello nazionale sono state 352.140. E passiamo al Sole 24 Ore, che ovviamente, essendo il giornale di Confindustria, si occupa dei temi di economia, ma dedica ampio spazio all'addio a Silvio Berlusconi, TV, politica, giustizia, 40 anni da protagonista. Un impero alla prova della successione è il titolo principale. Silvio Berlusconi è morto ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato venerdì scorso. I principali giornali del mondo hanno dato la notizia del decesso. Centinaia le dichiarazioni a ricordo della figura di imprenditore, politico e statista. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, giornata di lutto nazionale, nel Duomo di Milano alla presenza del presidente Mattarella e delle alte cariche dello Stato. In borsa il titolo MFE ha guadagnato quasi il 6% per voci speculative sul futuro assetto del gruppo che vale 6,4 miliardi. Una nota fine in vesta sicura tuttavia a continuità, aperta la strada per la successione alla guida del gruppo multimediale e per l'eredità politica di Forza Italia. E poi un'altra vicenda. Messina, nel gruppo Intesa, apre la strada al maxi aumento per i bancari. Si parla del contratto di lavoro. In una fase in cui le banche hanno un incremento di redditività, non è accettabile non concedere ai lavoratori degli aumenti di stipendio consistenti, ad affermarlo è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che ha anche fatto la cifra di questi possibili incrementi, 435 euro. Questo perché gli istituti macinano utili che il segretario generale della FABI, Lando Maria Sillioni, Sillioni quantifica in 25 miliardi. E poi la delegazione dell'Unione Europea a Roma, PNRR, faro europeo per la quarta rata e revisione del piano. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Senza Silvio, la scomparsa dei Berlusconi a 86 anni, domani i funerali di Stato. Il politico popo che ha cambiato il paese, il bel paese, tutta una serie di commenti. E poi si parla anche di calcio, la delusione bianco-rossa, il Bari che a due minuti praticamente dalla fine si è vista portare via la finale, la Serie A dal Cagliari. Adesso chiarezza sul futuro, giocatori di essere tecnico in odi da sciogliere. E passiamo all'altro giornale di Puglia Basilicata, l'edicola del Sud, che titola nella sua edizione barese, Addio a Silvio Berlusconi, ha cambiato anche il Sud. L'ex presidente del Consiglio dei Ministri è morto ieri a 86 anni, con la sua scomparsa si chiude un'epoca. E ci sono poi tutte le reazioni e i commenti, ma ci sono anche tante notizie dal capoluogo. Le nomine della Banca Popolare, Casillo Nuovo numero 1, la protesta nell'ARPA, l'Agenzia regionale per l'impiego e per il lavoro, i vincitori di concorso che dicono assumeteci il dossier dell'Unicef, mai così tanti impiegati, under 19. Poi c'è il caso a Bari, niente bus dopo la partita, è polemica e così via. Passiamo all'arresto del Carlino, il giornale del gruppo quotidiano nazionale. Nella sua edizione nazionale vedete a tutta pagina questa fotografia di Silvio Berlusconi. Era Silvio, 1936-2023. E ancora passiamo al gruppo di giornali della provincia, cominciando con Sondrio, che titola Berlusconi, ricordi valtellinesi. L'imprenditore, ex presidente del Consiglio, è scomparso a 86 anni, il legame è stretto con le persone, Pedranzini, un precursore del tenno, sempre vicino nella malattia, un uomo buono. Il Milan è l'amico macellaio di Grosio, mi anticipò la discesa in campo, attesa a Bormio con Putin, ma quel weekend andò all'aria. Sandro Sallusti l'hanno dipinto come il Caimano, era l'opposto. E poi invece c'è anche una vicenda di cronaca, Sondrio, massi sull'auto in sosta, paura a Gombaro. Frana ieri nella località di Gombaro, a Sondrio, sono caduti tre massi di grosse dimensioni, uno dei quali il più grande è finito sopra un'auto parcheggiata, nessun ferito, lo sbontamento avrebbe potuto avere conseguenze davvero gravi. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 10 quando nella zona si è udito un boato e la frana si è staccata dalla montagna, piombando letteralmente sulle auto che si trovavano in sosta a poca distanza da un'abitazione al di là del Mallero, nei pressi di un ponte progettato dall'architetto Stefanelli nel 1989. E passiamo alla provincia di Lecco, Berlusconi, ricordi lecchesi, l'imprenditore, ex presidente del Consiglio, è scomparso a 86 anni. E poi si parla anche di sport, calcio, Lecco, c'è la finale d'andata, affoggia e sura i due. E ancora Lecco di Bergamo, addio Berlusconi, fine di un'epoca, il Cavaliere si è spento ieri alle 9.30, il cordoglio del mondo politico, mercoledì i funerali di Stato. Carico si ribalta, muore un camionista, è una cronaca locale. E passiamo al messaggero, messaggero che dedica anche spazio, lo vedete, a Madonna che silenzio, se ne è andato nuti, genio triste della risata, aveva 68 anni, si tratta dell'attore che ha anche lui a suo modo segnato un'epoca, anche se negli ultimi anni ha vissuto un periodo molto triste della vita. Ma lo spazio principale è al sogno italiano che era rappresentato, incarnato proprio da Silvio Berlusconi, protagonista di politica, economia, tv e sport, domani, i funerali di Stato. E c'è un interessante editoriale di Francesco Gaetano Caltagirone, l'editore del Messaggero, che titola Un uomo che ha lasciato un'orma profonda. Non è mia abitudine esprimere i miei sentimenti personali sul giornale di cui sono editore. In questo caso mi sento di fare un'eccezione, direi con foscolo i momenti funebri inutili ai morti, giovano ai vivi. Ricordo Berlusconi quando, ancora esterno alla politica, partecipava ad alcuni incontri di imprenditori romani accompagnato da amici comuni. Era il mio principale concorrente nella costruzione di interi quartieri. Lui operava a Milano, io a Roma. Me lo ricordo pieno di fantasia e di carica innovativa. Negli anni seguenti si è affermato sia nel campo della grande distribuzione sia in quello della televisione, dimostrando di essere più bravo degli altri. Una volta si può essere fortunati, se va bene, molte volte si è bravi. Ciò che ho sempre ammirato in lui è il coraggio. Un uomo arrivato che mette in discussione se stesso il suo patrimonio per una nuova avventura considerata allora come scarse probabilità di successo. Un coraggio che poi ha continuato ad avere quando, attaccato da molte parti, ha saputo resistere al suo posto senza farsi intimidire. Rimarrà nei libri di storia. E restiamo al messaggero per cambiare argomento perché nelle pagine interne troviamo il racket delle occupazioni. La pista per ritrovare Cata. I genitori tentano il suicidio. A Firenze le indagini puntano sul sequestro di persona. Stop a droni e sub per le ricerche. Il padre in carcere ingerisce detersivo. La mamma candeggina. Non sono gravi. E allora leggiamo. Questa è la vicenda della bambina scomparsa a Firenze. Prima il lungo colloquio nel pomeriggio in procura con i carabinieri e PM della direzione distrettuale antimafia. Poi il crollo emotivo in serata. Catrina, mamma della piccola Cataleia, di soli quattro anni, scomparsa da un ex hotel occupato di Firenze, ieri poco prima dell'evento ha tentato di uccidersi ingerendo della candeggina. Lo stesso aveva fatto per ben due volte il marito Miguel, recluso nel carcere di Sollicciano, bevendo detersivo e poi provando a stringersi un cavo elettrico intorno al collo. La donna, 26 anni, è stata portata con l'ambulanza all'ospedale Careggi. Ha ingerito modiche quantità di liquido e fortunatamente non è in pericolo di vita. Ma cosa si nasconde dietro alla misteriosa sparizione della piccola paccata, di cui non si sa più nulla da sabato pomeriggio? Perché pensare di farla finita quando le ricerche sono ancora in corso? Autentici rebus per gli inquirenti che indagano per sequestro di persone a scopo di estorsione, reato per cui è entrata in gioco anche la direzione distrettuale antimafia. Sullo sfondo lo spettro del racket, delle occupazioni abusive e le faide, ma idome, tra le bande di Latinos che si contendono spazi e territori. Una pista degli investigatori porta persino all'estero. La telefonata ricevuta domenica da Isabel, la miglior amica di Catrina, in cui un uomo la avvisava credendo fosse la madre che la bambina è con me, è stata fatta dall'Olanda, di cui i riscontri avviati anche oltre Alpe, al momento senza esiti oggettivi. Insomma, un'altra vicenda che continueremo a seguire anche nei prossimi giorni. E passiamo al mattino, il giornale di Napoli e della Campania, la morte dell'attore Francesco Nuti, il re degli incassi, dal successo al buio. E poi addio a Berlusconi, domani funerali di Stato e lutto nazionale, l'era di Silvio, il titolo principale, con le reazioni. Mattarella che dice, ha segnato la storia della Repubblica, Meloni, fiero del governo, poi le interviste prodi, rivali, mai nemici, sintonia sull'europeismo, casini, legame oltre le liti. L'imprenditore ed amato un generoso insieme per le riforme che sbloccarono il paese. Lui è Napoli, il cuore partenopeo del Cavaliere, Maradona, il G7 e la crisi risolta dei rifiuti. E poi ci sono i commenti, il futuro in quattro scenari, la notte in cui cambiò la politica, il grande innovatore del sistema, la leadership al di là della TV e del calcio. E chiudiamo con il quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, che è il giornale della Calabria e del Mezzogiorno, diretto da Roberto Napoletano, che nel suo editoriale di prima pagina scrive «Non ci sarà un altro Silvio, muore la seconda Repubblica». Berlusconi lascia lo stesso vuoto che lasciò la fine della democrazia cristiana per la prima Repubblica. E allora leggiamo un passaggio di questo editoriale che stravolge, come al solito, la prima pagina del quotidiano del Sud. Silvio Berlusconi è un uomo che ha avuto mille vite, mille discese, mille risalite di ogni tipo, politiche, imprenditoriali, in casa e fuori. È un uomo che ha avuto mille conflitti, mille accanimenti, mille vie di uscita dagli angoli più stretti. Soprattutto però ha dimostrato con la sua vita di imprenditore e di politico che erano possibili due cose apparentemente impossibili. La prima, un sistema televisivo privato che facesse concorrenza alla TV pubblica. La seconda, inventare un partito da zero sulle macerie dei partiti della prima Repubblica, travolti tutti, meno mezzo, da mani pulite. Dopo di lui un fenomeno simile non è più successo. È stato il primo presidente del Consiglio a non essere espresso dalla politica. Non è uscito dai partiti ma dall'imprenditoria. Non c'era mai stato un caso di questo tipo in Italia e l'altra novità strettamente collegata ad essa è che il capo di questo nuovo partito Berlusconi non lo ha fatto da tecnico ma da politico. Da politico di razza che si è inventato il suo partito su misura e lo ha guidato e gestito da politico che sapeva farsi di gomma e di ferro e da uomo di Stato, di statura nazionale e internazionale che ha fatto cose buone e commesso errori ma nei momenti cruciali ha messo l'interesse nazionale prima di tutto. Chi scrive ne chiese le dimissioni del presidente del Consiglio con un titolo a caratteri cubitali fate presto dalle colonne del sole 24 ore che all'epoca dirigevo perché erano a rischio il lavoro e il risparmio degli italiani per di più di una generazione. Lui non accettò le pressioni ricattatorie del duo Merkel-Sarkozy e ancora di più della Lagarde che volevano commissariare l'Italia con i soldi del Fondo Monetario Internazionale ma non esitò invece a fare il passo indietro che evitò al paese un default sovrano analogo a quello argentino. Un paese più ricco e meno popolato di noi che da allora non solo è diventato povero ma non si è mai più ripreso. Fece il passo indietro da noi richiesto Berlusconi e lo fece dichiarando perché non si sarebbe mai perdonato che la speculazione internazionale si mangiasse il suo paese. Silvio Berlusconi ha inventato il bipolarismo che oggi riteniamo classico tra centrodestra e centrosinistra impersonificato da lui e da Prodi ma prima questo bipolarismo in Italia non era mai esistito e si deve a lui un capitolo importante della storia politica italiana che è quella della seconda repubblica poi il resto di questo editoriale. E ancora gli ultimi titoli notizia da prima pagina in tutto il mondo domani funerali di stato nel Duomo di Milano corrono i titoli del Biscione la borsa guarda la successione intanto lo spread crolla a 159 punti. Era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa interamente dedicata alle vicende della scomparsa di Silvio Berlusconi. L'appuntamento per tutti e domani stessa ora stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.